Bevanda medicinale per perdere peso e ridurre la cellulite Perdere peso e ridurre la cellulite sono un vero cruccio per la maggior parte delle donne e richiedono grande sforzo per ottenere buoni risultati. I due fattori sono strettamente collegati, poiché la cellulite appare quasi sempre quando si è in sovrappeso, motivo per il quale è necessario eliminare i chili di troppo per ridurre anche questo fastidioso inestetismo cutaneo. Poche volte un solo prodotto può ridurre peso e cellulite allo stesso tempo, ma ne esiste uno che può diventare un grande alleato. Si tratta di una bevanda medicinale molto benefica per le donne, ricca di nutrienti e proprietà che possono aiutare a bruciare i grassi, perdere peso, migliorare la salute della pelle e ridurre la cellulite. In cosa consiste questa bevanda medicinale?. Questa bevanda medicinale è a base di semi di lino, un ingrediente naturale con numerose proprietà e benefici per la salute. Questi semi sono ricchi di vitamine, minerali, acidi grassi e fibra, ovvero nutrienti essenziali per avere una buona digestione, migliorare la salute della pelle e aiutare lorganismo a bruciare i grassi. I semi di lino si caratterizzano soprattutto per il loro elevato contenuto di acidi grassi omega 3 e omega 6, grassi sani che possono aiutare a prevenire problemi cardiovascolari, cancro o ipertensione. Questi grassi, inoltre, sono ottimi per la pelle, poiché aiutano a combattere lazione dei radicali liberi e prevengono linvecchiamento prematuro. Oltre ai suoi acidi grassi omega 3, i semi di lino contengono vitamine B1, B2, C e D, acido folico, minerali come magnesio, manganese, zinco, ferro, potassio e fosforo e fitochimici che riducono il rischio di soffrire di cancro e diabete, soprattutto nel caso delle donne. Perché i semi di lino favoriscono la perdita di peso?. I semi di lino rappresentano un ottimo supplemento per le persone che desiderano perdere peso, poiché sono molto poveri di calorie, saziano ed il loro elevato contenuto di antiossidanti è il segreto per attivare il metabolismo. Grazie al loro alto contenuto di fibra, questo alimento è ideale per migliorare la digestione, eliminare i rifiuti del corpo e mantenerci sazi per più tempo. Il loro contenuto di omega 3, inoltre, aiuta a ridurre i livelli di zucchero nel sangue e può aiutare a diminuire la voglia di zuccheri. Perché i semi di lino aiutano a ridurre la cellulite?. La cellulite si può presentare come conseguenza del sovrappeso, della ritenzione idrica o delleccesso di tossine nel corpo, oltre ad altri fattori. I semi di lino sono un alimento ideale per lottare contro tutti questi fattori, oltre ad essere un grande alleato per la salute della pelle. I semi di lino. Come preparare questa bevanda medicinale?. Questa bevanda medicinale a base di semi di lino consiste nella preparazione di un tè mediante il quale trarre beneficio da tutte le loro proprietà per perdere peso e ridurre la cellulite. . Questa bevanda rappresenta un grande sostengo per la dieta ed è un modo sano di mettersi in forma, senza patire la fame. . In aggiunta, questa bevanda medicinale indicata per le persone che sono state operate o che combattono contro la gastrite, ulcere allo stomaco, cistite, pelonefrite o emorroidi. Ingredienti 3 cucchiai di semi di lino 45 gr. 1 litro di acqua bollente. Preparazione. . Mettete a bollire un litro di acqua ed aggiungete 3 cucchiai di semi di lino. L'ideale è farlo di sera, in modo che riposi tutta la notte. . La mattina seguente, otterrete un liquido denso che concentra al massimo i benefici dei semi di lino. Bisogna bere 150 ml della soluzione, 3 o 4 volte al giorno, mezzora prima dei pasti. . . L'ideale è preparare la bevanda tutte le sere per averla pronta la mattina seguente. Si consiglia di bere tè ai semi di lino per 10 giorni e poi fare una pausa di altri 10 giorni. .